Il treno regionale 30.45 di Tremitalia, delle ore 10 e 20 per Firenze-Santa Maria Novella e il pappello dal binario 5. Attenzione, il treno è in ordinario 3, la stessa linea di Tremitalia, attenzione, il treno è in ordinario 3, la stessa linea di Tremitalia, attenzione, il treno è in ordinario 3, la stessa linea di Tremitalia. Attenzione, il treno è in ordinario 3, la stessa linea di Tremitalia, attenzione, il treno è in ordinario 3, la stessa linea di Tremitalia, attenzione, il treno è in ordinario 3, la stessa linea di Tremitalia, attenzione, il treno è in ordinario 3, la stessa linea di Tremitalia, attenzione, il treno è in ordinario 3, la stessa linea di Tremitalia, attenzione, il treno è in ordinario 3, la stessa linea di Tremitalia, attenzione, il treno è in ordinario 3, la stessa linea di Tremitalia, attenzione, il treno è in ordinario 3, la stessa linea di Tremitalia, attenzione, il treno è in ordinario 3, la stessa linea di Tremitalia, attenzione, il treno Grazie a tutti.